La fake news corre in chat, ma stavolta è di quelle davvero pericolose. Coronavirus Arezzo, questo è il titolo di una bufala evidentemente ricostruita da una mente disturbata che riporta a primo caso all'ospedale di Arezzo e il paziente sarebbe un cittadino italiano di 45 anni che per lavoro si sarebbe recato in Cina il 20 gennaio. Niente di più falso e anche pericoloso per la velocità con cui purtroppo la fake news si è diffusa. Ecco dunque la secca smentita da parte dell'ASL Toscana Sud-Est. L'azienda sanitaria comunica che si tratta di una fake news. Chiunque diffonda notizie non verificate con l'ufficio stampa dell'azienda stessa può essere denunciato per procurato allarme. L'azienda sanitaria ci conferma invece l'acquisto massiccio di presidi sanitari mascherine in primis per fronteggiare questo delicato momento. La task force aziendale di cui fanno parte medici e esperti è già stata individuata ed è pronta a fronteggiare l'eventuale emergenza. Anche nel mondo delle pubbliche assistenze c'è grande attenzione al tema. Presidente si avvicina a un periodo delicato. Il coronavirus ovviamente sappiamo benissimo è arrivato anche in Italia. I vostri operatori hanno qualche direttiva da seguire? Escono con le mascherine? Hanno qualche dispositivo da seguire? In questo momento noi non abbiamo avuto nessuna indicazione in merito. Mi pare che anche a livello nazionale c'è un'allerta piuttosto importante. Mi pare tipo A, come dice il Presidente del Consiglio. Noi però dal centro non abbiamo avuto indicazioni. Comunque io consiglierò, ho consigliato e consiglio sempre più ai nostri dipendenti quando vanno a prendere o trasportare comunque dei pazienti che hanno della sintomatologia febbrile e quant'altro ecco di usare quelle accortezze quindi intanto loro personali attraverso mascherine, guanti tutti questi sono i presidi di cui dispongono e poi la disinfezione e anche disinfezione dell'ambulanza con la quale si è trasportato il paziente perché si potrebbe propagare anche ancora di più. Quindi è un momento delicato e considerate che questi sono giovani che volontariamente senza interesse alcuno se non quello umanitario al servizio del cittadino sarebbe veramente drammatico se avessero incorrere in questa gravissima patologia che ancora è molto vaga nella sua situazione di realtà.